Ciao amici di Addicted to Games, io sono Stefania e oggi vi porto un altro episodio di The Sims 4 sempre con i nostri protagonisti Michele e Stefania io sono andata un po' avanti, perché non mi ricordavo assolutamente niente sono andata un po' avanti, praticamente il nostro Michele adesso è stato promosso e niente, non mi ricordo dove eravamo veramente rimasti ok, purtroppo non mi ricordo niente, perché tra impegni, poi ci sono stati gli europei e quindi non ho voluto dare, non ho voluto come dire, e no, appare di nuovo lui, c'è una persecuzione insomma, per i vari europei, io anche adesso sto studiando, quindi quindi non, oddio che ho fatto, non, sai, sapete, insomma che cacchio sto dicendo? poi c'è gente che mi rompe le scatole, che mi viene, diciamo, diciamo, non ti vediamo mai allora ordina cibo, vediamo no, ma che cavolo fai? che cavolo fai? perché ti sposti? non ti spostai senti no, qui, ma no allora, prendiamo non ci cucinano tangenzinger per entrambi ok, e prendiamo no, farina da vino, no sembra un po' una cosa a miseria eh, forse è questo uno, uno e due mi stavo dicendo comunque, ragazzi io non ho potuto dare più, più retta a fare video su The Sims perché c'è gente molto rompiscatole che mi pretende di uscire quando io non dovrei uscire di casa a questo periodo io esco solo con Michele Baffa almeno con lui tutto ha un senso ma perché ti sei spostata? dimmelo sediti insieme dove sei andato? perché te sei andato l'amodo? oh no, poveretto è da solo ok, sì ragazzi lui è un sim che ho creato e lo uso per i fatti miei allora facciamo gioca una partita in modo così da scaricare la perché entrambi sono ah, lei vuole dormire bene allora, fate pochi aspetti non puoi fare neanche un pisolino starebbe in educato vabbè, comunque socializza col tuo sim dai così in modo che vi conoscete conversazione profonda poi facciamo ehm, ehm, discusi di interessi esprime ammirazione conversazione profonda oh, conversazione profonda oddio, perché è buio qui? un attimo, un attimo risolviamo la cosa vediamo se ah, sì, perché l'avevo usato l'altra volta imposta imposta colore tutte le luci ok, adesso sì allora, scambio opinioni sul cibo ah, mi chiedo perché è annullato dimmi dimmi perché l'ha annullato non mi esce ah, sì, perché non ha mangiato niente ancora giusto sono un fottuto genio, giusto? sì oddio, io ho dimenticato per la milionessima volta di avviare il contatore ma maledetta, una miseria ecco la solita ingorda che non sono altro amichevole discute dei sapori del cibo voilà, Michele è diventato a breve andrà a Masterchef tranquilla ah, sì non è certo a me che a me che a me 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 ok bacio bacio ma accompagnatura romantico bacio dai così vi baciate tutti e due non ve l'ho smettito fai un massaggio fai un massaggio dove stava offri un massaggio no, 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 sbagliato, 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 sbagliato finiamo di socializzare così paghiamo tutto e ce ne andiamo finiamo di socializzare così paghiamo tutto e ce ne andiamo qui 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 dai manco un poco tante qui qui io perché non lo vede uffa vediamo ecco ok adesso possiamo ottenere i passi guarda il conto 42 ok possiamo anche annullare tanto comunque ecco appunto abbiamo guadagnato la medaglia d'oro allora viaggiamo andiamo a casa mi sta venendo un bel un bel pliscio mi sta venendo come se lo sa dietro le mie parti allora torniamo a casa come ho detto prima mamma mia fa caldissimo ragazzi fa veramente caldo allora ragazzi che dite ma si dai ragazzi chi se ne frega fai il fichi fichi ragazzi questo è il primo fichi fichi che tentiamo vediamo devo dire con entusiasmo proprio ok accende le candele rendi tutto più romantico stefani e michele sono per fare fichi fichi per la prima volta mamma mia che cosa emozionante ma perché ce ne sono due dei miei personaggi cioè non capisco boh vabbè ok vediamo com'è stato il fichi fichi prima o fichi fichi attieni giù ok prima o fichi fichi la prima esperienza sotto le lenzuola oddio lenzuola con un nuovo sim è sempre memorabile quella ok vabbè ragazzi io posso dirvi che con questo video possiamo concludere mi raccomando abbiamo raggiunto il mio obiettivo mi caratteri il fichi fichi che ormai lo sapete vabbè insomma mi raccomando noi possiamo concludere così il video lasciate like un commento e se lo potete anche condividerlo e niente noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima volta un bacione a tutti ciao 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 Grazie a tutti